Fumo nero ed aria irrispirabile. Uno scenario ancora una volta ignobile quello che si è paventato agli occhi di tanti cittadini che si sono ritrovati a percorrere via Magellano a Ponte Cagnano. Una riscarica a cero aperto con bustoni di plastica neri pieni di ogni tipo di spazzatura è stato incendiato. In pochi istanti l'aria è diventata irrispirabile con il fumo nero che sprigionava nell'ambiente materiale plastico di vario genere. Immediate le richieste di intervento ai vigili del fuoco sono subito intervenuti per avere la meglio sulle lingue di fuoco che probabilmente hanno ancora una volta natura dolosa.